Il concerto di Pasqua torna come da tradizione su Rai 1 oggi, venerdì 19 aprile, all'interno del Duomo di Orvieto. Sarà trasmesso in Eurovisione alle 22.30 circa, dopo la via Crucis di Papa Francesco dal Colosseo. Per il secondo anno consecutivo l'appuntamento avrà come protagonisti il coro e l'orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, diretti rispettivamente da Ghiigarati Ansini e da Jura Giovanciua. Verrà eseguita la messa da Requiem di Giuseppe Verdi, composta nel 1874 per onorare la morte di Alessandro Manzoni. Il concerto si è tenuto sabato 6 aprile ma verrà trasmesso su Rai 1 il venerdì santo, appunto dopo la via Crucis. Il tradizionale concerto di Pasqua si terrà dunque nel Duomo di Orvieto, capolavoro dell'architettura gotica dell'Italia centrale. La costruzione fu avviata nel 1290 per volontà di Papa Niccolò IV, disegnato in stile romantico, vide susseguirsi diverse direzioni di lavori. Messa da Requiem dal Duomo di Orvieto.L'anno scorso è stata rappresentata in forma di concerto l'opera lirica Mosè in Egitto, una delle più importanti composizioni di Gioacchino Rossini nel centocinquantenario della sua morte. Quest'anno invece verrà eseguita la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, eseguito in occasione del primo anniversario della morte di Manzoni, il 22 maggio 1874, nella chiesa di San Marco a Milano. In quell'occasione i quattro solisti furono Teresa Stalsi, soprano, Maria Oldman, mezzo soprano, Giuseppe Icapponi, tenore e Urmando Umeni, basso. Il successo fu enorme e la fama della composizione superò presto i confini nazionali. Quest'anno il soprano Rachel Willis Sorensen, il tenore Antonio Poli, la mezzo soprano Elena Zidkova e il basso Youngly Gli Interpreti. Un grande onore che mi esalta, non vedo l'ora di dare il massimo per questo concerto che sarà un omaggio all'Umbria, dalla grande musica, a Verdi, alla spiritualità dell'arte, ha dichiarato il tenore viterbese Antonio Poli a Tushavueb. Il concerto di Pasqua 2019, diretta streaming video su Rai 1.Il concerto di Pasqua nel Buomo di Orvieto, in provincia di Terni, rientra nel progetto Omaggio all'Umbria, costituito da 24 appuntamenti e concerti di giovanissimi musicisti di eccellenza che si alterneranno in eventi di rilievo internazionale. Ad esempio, il prossimo sabato 15 giugno ci sarà il concerto della Joachim Orchestra, mentre il 3 agosto quello della Saffa Chius Orchestra. Invece il concerto di Pasqua sarà trasmesso in diretta Eurovisione su Rai 1 oggi, venerdì 19 aprile 2019, dopo la Via Crucis di Papa Francesco. Può essere seguito in diretta TV su Rai 1. Ma è disponibile anche quella streaming, grazie al servizio Rai Play, con cui si può assistere al concerto di Pasqua anche attraverso il proprio PC, tablet e smartphone. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.